Da quest'anno le banche italiane, le poste, le assicurazioni sulla vita non sociali dovranno comunicare al fisco italiano i beni e i conti depositati dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'aere. Questi conti verranno a partire dal 2018 trasmessi alle autorità fiscali svizzere che a sua volta le trasmetteranno ai vari cantoni dove risiedono questi connazionali e i cantoni è compito loro di controllare, esaminare se i conti che figurano su queste liste sono stati o no dichiarati, denunciati preventivamente. Lo scambio automatico di informazioni riguarda esclusivamente le banche, cioè i conti bancari, i conti postali e i capitali che possono essere anche buoni del tesoro, buoni fruttiferi oppure polizze vita. Nell'estrato conto ci sono molte voci e se per esempio c'è una voce che parla di imu, di tasi, di tari oppure di canonerai oppure di bolletta Enel, cosa significa? Significa che il proprietario, l'intestatario del conto possiede anche un immobile e così il fisco svizzero verrebbe a conoscenza anche di un bene che magari era stato nascosto. Io cerco di spiegare che non pagano doppie tasse, però un supplemento di tassa viene pagato comunque. Perché? Perché il fisco svizzero tiene conto del valore dei beni che uno possiede all'estero, del valore, la fortuna diciamo in banca e del valore dell'immobile. Questi valori vengono aggiunti ai beni che possiedono in Svizzera per fissare l'aliquota che poi verrà applicata sui beni che uno possiede in Svizzera, sui redditi che ha realizzato qui. Diciamo loro che hanno la possibilità per quelle persone che non hanno dichiarato qualcosa di poterlo fare oggi grazie a questa mini amnistia. La mini amnistia permette al cittadino residente in Svizzera di dichiarare una volta nella vita, senza sanzioni penali, cioè senza multe e denunce penali, di dichiarare i beni che hanno all'estero pagando comunque la differenza delle imposte che avrebbero dovuto pagare se fossero stati dichiarati prima questi beni per gli ultimi fino a dieci anni, gli ultimi dieci anni, più gli interessi. Allora, se uno vuol mettersi in regola, fa l'autodenuncia, dice io possiedo una casa in Italia e ho un conto con tanti soldi in Italia. Il fisco svizzero dice ok, noi facciamo i calcoli dieci anni arretrati al massimo, di quanta differenza di imposte devi pagare, facciamo pagare quella differenza più gli interessi e il cittadino da quel momento il contribuente è in regola col fisco italiano, svizzero ed europeo. Qualora non lo facesse per vari motivi, qualora dovesse venire scoperti dalle autorità fiscali svizze più tardi o con lo scambio automatico di informazioni o via altri mezzi? Dunque dovranno in ogni caso pagare i dieci anni di arretrato di tasse più gli interessi e oltre a questi dieci anni di arretrato di interesse c'è, è prevista una multa che varia da un terzo a tre volte le tasse dovute e al limite anche una denuncia penale per evasione fiscale.